Salve ragazzi, sono Axo e bentornati sulla Pixelmon S&P. Oggi siamo di nuovo in compagnia di Dark e resta in questa magnifica live. Siamo quasi tutti pronti con l'armatura di cristallo per correre straveloci, ma Mad ci ha già lasciato una prima copypasta della giornata, quindi mi sa che mi tocca proseguire. Che dite? Andiamo, andiamo. Sono appassionata di cosplay. La Mu è un manga giapponese, il titolo originale è Urusei Atsura, ovvero Noisy People. No, non sono chiassosa, ma ho una cosa in comune con la Mu. A volte mi sembra di venire da un pianeta alieno rispetto alle ragazze della mia età. Forse è la sindrome di Peter Pan. Non sono qui per sesso, sono una bella ragazza e non ho problemi a trovare opportunità di una notte. Non cerco neanche storie a lungo termine perché non mi sento pronta. Una via di mezzo? Questa non la conoscevo, Mad, cos'è? Come vedete è inverno qua nel server della Pixelmon SMP, ha già nevicato sulla montagna fuori da casa mia e devo dire che la vista è particolarmente bella. Cosa facciamo, ragazzi, in questa live di oggi della Pixelmon? No! Vabbè, non ve lo vogliono dire. Facciamo riprodurre i Pokémon e cerchiamo di ottenere... Facciamo riprodurre i Pokémon e cerchiamo di ottenere quelli giga enormi. Esatto, esatto, esatto. Allora, io ho Charizard... Charizard, Norman. Cioè, è proprio Charizard e Norman. Poi Camerapt, ce l'ho Small. Vai Flygon. Pensate a chi potrebbe essere gigantesco se lo facessimo giga enorme. Arcanine ce l'ho Rant, purtroppo. Embur è grosso. Dimensioni grosso. Questo è discretamente grosso. Madonna. Questo è il mio Kangaskhan. No, Embur però è la... Madonna! No, no, ok, non credo di poter competere con me. Mi spiace. È grosso. Era un po' di pace. Ma no, Kangaskhan giga chad non sarebbe male. Guardate il mio Embur a confronto. Vabbè, sentite. Io direi che iniziamo... Cioè, scegliamo un punto, tipo, nella pianura davanti casa di Nico. E iniziamo a vedere lì. Proviamo a mettere un Ranch Block e vediamo cosa succede. Ci state? Vai, vai. Oh, finalmente corro anch'io. Va, che bello, finalmente. Ma è la svolta. Ho fatto vedere il mezzo? Eh, a voglia. Sì, sì, ho fatto tutti gli altri due pezzi. È la svolta. Metto qua? Sì, sì. Eh, che bella animazione. Sì, simpatico. Si vede proprio la zona. Ah, ci puoi accedere solo tu, resta, perché conta come se fosse tuo. Ma vedete la zona quella... No, no, perché è il tuo. Quindi aspetta, lo spacco e lo rimetto io. Sì, sì, sì. Passamelo. Sì, ok. Ora la vedo. C'è la zona che prendi. Sì, per onor di Cronaca, ora la vedo. Non ci sono Pokémon nel ranch. Lasciamo un Pokémon nel ranch. Devo metterlo in squadra, però, prima. Ok, e dovete scambi... Bravissimo. Dovete scambiarmi uno dei vostri, credo. Ok. Eh, no, cioè, mi devi scambiare Kangaskhan, probabilmente. Se vuoi in un Erigus, lì c'è la macchina. Vieni, stanno... No, Swalot è venuto a praticarlo con Charizard! Per il tipo normale con la lana, per il tipo fuoco Netherrack. Metà di un blocco, metà dell'altro e in mezzo il ranch block. Ok, va bene. Eh, il normale scambiamo la lana. Va bene, si può fare. Eh, vabbè, si può fare, lo possiamo fare. Ti scambio... Per ora ti scambio il mio Crocodile. Tiè, sono pronto. A posto. Abbiamo il Kanga di resta. Va che bello, ma rimane sopra la O originale oppure adesso dice che è mio? Non dice un cazzo. No, dice che è mio, cioè, dice che comunque è di resta. Allora, intanto lascio Kangaskhan qua alla pensione fatta da noi. Le staccionate possiamo farle. Chi mi prendo? Mi prendo il Nine, così posso correre. Sì, e io vado a prendere una Netherrack, così facciamo vedere anche il Nether. Ho un Farfetch'd di Galar. Ma quello è un... Bello, prendiamolo quello. Qualcuno lo prenda quel Farfetch'd di Galar gigantesco. Vabbè, ci sono fiondato. Dai, vediamo un po'. Ok, amici. Siete qua, sapete benissimo cosa dovete fare. Io vado a prendermi i blocchi e poi il vostro turno. Ah, c'è il Nether della Biome Supplenti, tra l'altro. Spettacolo. Bello, bello, bello. Io non ho ancora esplorato, comunque. Chi è che ha ninja abbriggiato sulla lava con della clay? No, 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 paura. Sono in live, è troppo alto. No, no, no. No, non lo farò. Non sono abbastanza uomo. Volare con un Pokémon? Se qualcuno gifta una sub lo faccio, se no, no. No, resta. Ma sono strapieno di roba. Andiamo, ragazzi, a siglare la prima mia morte nella Pixelmon SMP. Non lo faccio da letteralmente una vita, quindi potrei cadere dopo due blocchi. No, 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 no. Sono caduto dopo 20 blocchi, stavo andando veloce. No, 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 no. Ah, tutta sta... Cioè, così va fatta sta roba? È giusto come l'ha fatta resta, ragazzi? Sì, è così. Sono un po' timidi, però guarda come si stanno già sbaciucchiando. Fai prendere fuoco alla netherrack che aumenta la velocità con cui fanno le uova. Ma me l'ha scritto talmente tanta gente che anche se fosse una trollata ormai dobbiamo provare. Battio e ridammela. Ma no, ma no, ragazzi, ma bruciano i recinti! Ma cosa mi fate fare? Ma cosa mi fate fare? Ma cosa mi fate fare? Ma che scemo anch'io che non ci ho pensato. Ma figa. Ok, Kangaskhan increased a breeding level. Mad Phoenix ha detto che aveva un'altra clessidra, vè? Sì, pure io ce l'ho. Andiamo a prenderla. Io ce l'ho pure, eh. Vado a prenderla. Ah! Non glielo faccio vedere il mio... Il mio glink. Sì, dai, fallo vedere. Flex, una voglia, flex. Fallo vedere. Vabbè. Nessuno lo sa ancora, ma resta... Ah! Clink, clank. Shine. Provato uno shiny, offline. Sì. Lo ha fatto. Ma no! Perché Kangaskhan è sceso? Di amore versus... Ah! C'è l'uovo! Ciao! Su! Droppato? C'è l'uovo! C'è l'uovo! C'è l'uovo! C'è l'uovo! C'è l'uovo! Let's go! Let's go! E ora gli mettiamo di fianco qualcuno con un corpo di fuoco. Io non vedo niente, lo vedi soltanto tu. Sì, ma tranquilli, ce l'ha, fidatevi. Sì, le dammi un po' più. Vediamo. Ma dovrei avercelo qualcuno con un corpo di fuoco, ti pare? Con tutti sti Pokémon... Eccolo qua, Talonflameflamebuddy, perfetto. Let's go! Si è schiuso l'uovo. Ragazzi. Ma è piccolo. Ma... A me questo coso non sembra giga enorme. Non è identico. No, 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 no. Ti risulterà grosso nella tier, secondo me. Giant è uscito. Giant. No! Sì, 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 sì. E vabbè, oddio, in ogni caso non fa schifo, è comunque grande. Certo, non è enorme, però... Devono rifare di nuovo l'amore. No! No, no, no! Fra! Ci posso, sta. No! No! Grazie a tutti.